Jen Arnold è un medico affermato, una neonatista che lavora per l'ospedale pediatrico del Texas. Suo marito Bill Klein è un uomo di affari che si occupa di forniture mediche e telemarketing. Segni particolari, lei è alta 96 cm, lui appena 122. Sono affetti da nanismo e questo contribuisce a fare di loro le star del docoreality di Real Time, il nostro piccolo grande amore. Arrivato in Italia alla settima stagione dopo una fascia pomeridiana in onda ogni giorno e attualmente trasmesso nei fine settimana, il docoreality racconta le enormi capacità di adattamento, l'espansiva affettività, il desiderio di diventare genitori, adotteranno due bambini affetti da nanismo, di questa coppia molto speciale. Ma non sono gli unici protagonisti e con queste caratteristiche del pomeriggio di Real Time, la piccola statura e le grandi imprese hanno creato un vero e proprio fenomeno, in onda al posto di Bill e Jen sullo stesso canale dallo scorso 6 aprile, le avventure di Matt e Amy Roloff e dei loro quattro figli, uno solo dei quali è affetto da nanismo. La famiglia vive in Oregon e si lascia seguire dalle telecamere dal 2008. E la ricetta vincente di questi format è quella di mostrare non solo una normalità, ma proprio una straordinarietà quotidiana, fatta di vita all'aria aperta in splendidi ranch americani, fatta di fecondazioni assistite, fatta di extra lusso, fatta di sfide sempre più difficili, affrontate con grande coraggio. Quindi tutta una serie di elementi che noi stentiamo a immaginare in un contesto di persone affette da nanismo, dove piuttosto tenderemo a immaginare uno strato di difficoltà superiore a quello delle persone di statura normale. Piccole persone, grandi ambizioni. È anche il progetto molto determinato di mostrare come la diversità possa diventare un punto di forza e d'orgoglio, non un limite ma un incentivo a chiedersi telecamere alle calcagna ogni giorno di più. Grazie a tutti.